Buonasera a tutti, buonasera a lei, con te che non vi vedo io, mi mancavate, ma niente, sono qui a lavorare con mio amico, con questo mio amico che mi ha fatto piacere, ma che piacere, c'ha una sega a mano o gli manco un braccio, gli manco un braccio, mi ha fatto piacere il mio segato braccio, ma che piacere è il mio segato braccio, sai faccio anche per lavoro, diciamo più un discorso di pensione, Sì comunque in Italia si chiama truffa, è una truffa, ma no, ma no, ma sai capita a forte di managgia di tagliare un braccio, una gamba, c'è chi preferisce la gamba, c'è chi preferisce il braccio, c'è chi taglia la testa, io braccio e tanto ce ne ho due, ma non sei, mi basta uno managgia, ma che? Ma ne basta uno per fare cosa? io ho uguale, televisore prendo uguale ah, lei va a rubare la televisore allora con stereo di macchina, sfilo uguale anche con un braccio solo ma no ma sento, ma quell'essere schifoso accanto a lei, chi è? ma sai, avevo figlioli poverini che sono a lavorare da stamani ah, a lavorare figlioli? si, sono andati a lavoro ma quant'anni c'hanno su figlioli? uno c'hanno 4 e uno c'hanno 6 e come si chiamano? ma non mi ricordo ma come non si ricorda non si chiamano su figlioli? scusi ah, tu come si chiamano? non si ricorda neanche mia moglie come si chiama ma si, ma sai, ma la faccia finita mia ma che famiglia di merda gliela ma noi voglio tanto bene tutte le sere che metto a letto gli canto nina nanna, nina o questo bambino a chi lo vendo ma come vendi? non si può vendere figlioli lo venderò con un furgone ma che furgone? ma che furgone? senta, ma poi che lavoro fa oltre a rubare? io aspetto il mio studio a Monsumano ah, lo studio io leggo le carte di futuro, di presente se mi immagino se vuoi venire a Monsumano non ci tenga a venire faccio vedere che io non scherzo questo è un gioco di magia non è un gioco di scherzo magia, non si dice magia non si gioca mi si lavora eh? si, eh certo si lavora eh? mio amico Philadelphia che mi dà sempre una mano che è bravo che è sempre qui mi dà una mano a rubare a rubare ma no, ma non usare queste parole grosse managgia che parole grossi? un bravo ragazzo che mi fa piacere che io do qualcosa a lui eh, mi immagino che cosa duvidate a vicino adesso andiamo a lavorare che ci ha appartenuto da finire di scaricare a scaricare cosa? a scaricare cosa? a scaricare cosa? la roba rubata? si la faccia a finire se ne va lì la roba rubata